Roberto Quartaroli, allenamento completo con la squadra, significa che per l'inizio della nuova stagione uno dei nuovi acquisti potresti essere anche tu dopo aver saltato praticamente tutta la scorsa stagione? Sto tornando a disposizione della squadra, è già una settimana che mi alleno con i ragazzi, ho già fatto anche la sessione di contatto, lavoro sul contatto, sul punto di incontro e sono molto molto penceroso per questa, io rientro diciamo, ho molta voglia di rientrare dopo più di undici mesi, c'è voglia, c'è voglia di iniziare a fare qualcosa. È iniziato le ultime settimane praticamente di preparazione, prima dell'inizio della stagione, inizieranno anche i test con l'allenamento congiunto controviso venerdì, e ti saranno utili anche questi per riprendere ancora più confidenza? Assolutamente, ancora ovviamente non sono al 100%, la voglia è al 200% e la testa anche. Ora piano piano recuperiamo anche tutto i minuti, le partite, ci vorranno almeno una o due partite per tornare ancora un po' più in forma e poi per settembre dovrai essere pronti, insomma, ad essere a disposizione al 100%. Quindi il tuo intento per la prossima stagione, quello di confermare, quello che avevi fatto vedere nelle prime due partite contro Manchester e Alster l'anno scorso? Ma io spero di fare anche meglio, insomma, con gli allenamenti, dopo un anno, anche se non mi sono allenato con gli altri, comunque sono stato in una situazione molto, diciamo, di alto livello, quindi ho imparato anche altre cose, a guardare gli altri, a guardare gli allenamenti e capire delle cose dove non ti puoi accorgere magari quando sei dentro all'allenamento. Quindi spero magari avere un'esperienza in più dal di fuori che posso portare dentro da quest'anno.